Siamo con una turista francese, ci sono gli europei in Francia e c'è Italia-Germania, un pronostico, chi vince? Vuoi parlare anche in inglese o in francese? Sì, credo che l'Italia venga. Sì, diciamo, la Germania è abbastanza buona. È veramente forte la Germania? Sì, è abbastanza buona. Sì, ma l'Italia... Ma l'Italia è abbastanza buona, e vengono contro la Belgia. Vengono contro la Belgia. Ah, sì, 2-0, no? Sì, 2-0. 2-0 con il Belgio. Ma magari l'Italia potrebbe vincere, dipende dal gioco. Probabilmente vince l'Italia, tutti e due sono delle squadre forti. E la Francia, la Francia, la Francia è anche vicino a Italia. E se l'Italia venga, ci sarà l'Italia contro la Francia. Allora, la Germania è abbastanza buona. Quale città sei? Da quale città sei? Bruxelles, Belgio. Ah, quindi sei del Belgio, no? Francese? No, no, no. Sì, parlo francese, ma dal Belgio. Ah, Belgio. Adesso il Belgio è il favorito anche perché ha tutte le squadre facili. Il Belgio potrebbe anche vincere questo campione. Spero, sì. Ok, grazie molto. Grazie. Grazie.